Grazie, grazie Patrizia. Oggi parliamo della Pasqua, visto l'avvicinarsi della festa che ricorda la passione e la risurrezione di Cristo. Festa che si celebra la prima domenica dopo la Quaresima e che ricorda gli eventi che hanno portato alla morte di Gesù. Quali eventi ci furono? Cristo, che era ebreo, con i dodici discepoli da lui scelti, si recarono a Gerusalemme per celebrare la Pasqua ebraica, che era il ricordo della liberazione degli ebrei dalla schiavitù d'Egitto. Gesù sapeva che correva un grosso rischio perché i sacerdoti e i romani, intesi come autorità religiose e politiche, consideravano troppo rischiosa la sua influenza e quindi volevano sbarazzarsene. Questa cena sarà l'ultima con Cristo, con Gesù e i dodici apostoli della sua vita. Sedevano attorno ad una lunga tavola dove c'erano pietanze di agnello, di pane e di vino. Gesù benedisse il cibo e disse anche uno di voi mi tradirà. Queste parole suscitarono incredulità, ma non fu dato molto peso. A un certo punto uno di loro si alzò, era seduto in fondo alla tavola ed uscì. Era Giuda Iscariotta che, d'accordo con i sacerdoti, si doveva prendere Gesù, in cambio di 30 denari. L'identificazione avvenne attraverso il bacio e così fu possibile prenderlo e portarlo via. Seguì poi l'interrogatorio e i sacerdoti non accettarono l'affermazione secondo la quale Gesù disse che era Dio. Era un'equiparazione non ammessa, ma ci furono anche altre motivazioni che non andarono bene ai sacerdoti. Fu coinvolto anche il governatore romano, Ponzio Pilato, che non volle schierarsi né con gli accusatori, né condannare Gesù che secondo lui non meritava. Fu data la parola al popolo che si espresse per la condanna di Gesù. Seguì poi la fase della passione e della crocifissione. Al terzo giorno avvenne la ressurrezione, che significò la liberazione dell'uomo dal peccato originale. Quindi la Pasqua, una festa di elevato significato spirituale e religioso, sia per ambe e due le religioni monoteiste, sia per il cristianesimo che per l'ebraismo, con diversi riferimenti storici. Per la Pasqua ebraica, ricordiamo, si rifà la liberazione degli ebrei dall'Egitto sotto la guida di Mosè, mentre la Pasqua cristiana, appunto, è il passaggio dalla morte alla vita. Pasqua significa anche simboli, l'uovo, simbolo di vita, di fertilità, di rinascita, con la sua forma ovale perfetta, dove non c'è un inizio e una fine e si richiama all'eternità. Adesso facciamo un giro intorno al mondo per conoscere le tradizioni pasquali in altri paesi. Dalla Danimarca, dove la tradizione prevede che tutto sia di color giallo, dalle candele alle tovaglie. La Francia, poi, dal venerdì santo alla Pasqua, le campane sono rese selenziose per rispetto, appunto, dell'avvenimento e poi le uova sono nascoste affinché poi i bambini possano trovarle. Pressoché uguale le usanze in Danimarca, in Germania, dove, appunto, il simbolo è un coniglietto ed è un pupazzo, appunto, per i piccoli, per i bambini. In Spagna, invece, c'è l'usanza delle palme, che vengono messe alle porte delle case, soprattutto a Barcellona, che significano protezione da spiriti maligni. Nel Regno Unito, invece, la giornata più significativa è il giovedì santo, dedicata ad attività caritatevoli. In Israele la Pasqua ebraica, invece, che dura otto giorni. In questi giorni si leggono libri dedicati alla storia di Mosè. Inoltre, non si mangiano cibi con lievito e si mangia pane asmo. Per quanto riguarda la Russia, invece, il rito pasquale inizia la notte del sabato con una processione intorno alla cattedrale dove risiede il pop. Per quanto riguarda poi il nostro paese, è una festa molto sentita dal punto di vista religioso, ma anche dal punto di vista culinario, dove appunto abbiamo le uova vere, spesso piacevolmente colorate, oppure anche quelle di cioccolato con sorpresa, l'immancabile colomba simbolo della pace, e poi ancora la focaccia tipicamente veneta. A questo punto non ci resta che augurarvi a voi, carissimi telespettatori, una serena e felicissima Pasqua.